tv voglio reattivi tipo marco che non ha viaggio se non divento scemo no inizia la gara marco era marco ma ho fatto a posa di scatti ok e amici nessuno ci caca quindi nessuno va bene giochiamo per noi basta basta che tu sia sbronzo non è una scusa ma sei dentro ma sei dentro che problemi ai multi giocatore classico avvio partita marco si vede gioco si è parco che cazzo volete che clicca che le zar io mi sento molto offeso a questa tua affermazione di sfida poi c'è il che manco lo cavano normalmente ma come chissi di bene che cazzo con l'accento su per piacere per marco non è l'apostrofo marco non l'accento chi faccio associato manco sa criticare comunque niente li volevo mi vanno bene quindi confermi l'italiano bene ingegnerea scusate stavo scegliendo le cose belle mi ha fregato c'è che leggermente basso marco passati leggermente mi è fregato io devo cambiare non so se deve essere un abbattuto oppure no non volevo non volevo quanto sei cattiva che cosa mi è fregato l'eroe marchio 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 del cacchio ancora un po' ancora un pochino devo abbassare evviva sono alto per una volta sempre alto alto no stiamo giocando a for the king bella corsa per il trono iniziata a vedere ragazzi è uno spoiler per domani questo esatto anzi in realtà personale 3 tanto sappiamo che domani esplodono tutti il regime staccato allora ci vediamo come prima missione questo è vaffanculo per anche noi queste parole del mio randrim le voglio sentire molto di più non ne voglio proprio comincia io cominci sono confessa bello cosa c'è a vedere che posso dire che mette pareggia così lo volevo usare io zoscia poi guarda la usa male pure guardano si la usa malissima sono arrivato ad avere 12 dati con lei non sono fortunata e sono fortunata cosa è pazza sospita dalla barba della lepre tocca a me vai mi chiro allora siamo fin questo questo marco intanto ci ricorda che il suo personaggio diventa invisibile vero quindi presaggia diventi visibile solo di notte vediamo il combattimento anzi l'evento di miglior stare a vedere un passo il gioco di 3 da volgendo la chave vedo del istrano bravo miro a subito di già cazzo non importa adesso vediamo rampione che oggi si crede orsa ciao amore ciao amore vedi che la gente ci caga anche se è pasqua perché poi è un evento che è un evento che riguarda il pranzo in qualche modo anche i corgi comunque ragazzo per far vedere cosa sta facendo questo sabotatore sta facendo le cose sozze con una marco guarda lampione invece guardare le cose sozze sto vedendo adesso lo seguito le carte marco guarda me allora equipaggio ci sta roba no eh sì perché domenica e pasqua però noi ce ne preghiamo noi non siamo come qualcuno di qui presenza che fa vabbè dai oggi non facciamo noi ci prendiamo di riposo noi siamo gente serie noi da settembre manca un giorno capitoli azzar ma quel giorno che abbiamo saltato cosa abbiamo fatto abbiamo fatto la premia del best of quindi non si è saltato manco quello capito non abbiamo perso neanche neanche natale neanche anche perché siamo fortissimi esatto perché perché noi ci teniamo ai nostri follower marco un po meno ma io ci tengo come scusa pesato infatti dato questa sera fra una 24 la torre lonturna si è che si visivo marco perché c'è il lancio marco marco non so neanche dove sono aspetta dove sono clicca sulla torino ok 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 prenditi un danno di prestigio sono tutti guai e zar voi quanti ne avete ora guarda marco come memori vaffanculo vai a fare in culo mi chiro sei morto sei morto ma uno di vita ma qui non ti vedo però io vedo la live che cazzo diglielo amore diglielo questo che sono invidioso che ricomincia la mia sfiga con i dati questa carta ma non più non essere così mica è vicino porca pulita quanto lontano auci allora allora direi questo e proviamo così non capisco cosa ci faccio non vabbè l'eserio di di bambino questa esternazione per vaffan cuore ai pezzari o domani vado dall'autorità competente bravo mi chiro mamma mia mi chiro e devo fargli la missione che ci fosse il rarampicante il troll proviamo il rarampion ok metà e metà proprio questa guardiamo bene si chiro in faccia ciao mi chiro non vedo il tuo raggio c'è un abito a te lo spirito vedo il tuo volto i trattini bene che attualmente sono il 25 per cento questi spettati tra a trattarmi bene le zone non tratto bene neanche mia madre io non posso vedere la più non mi voglio fare questo marco quanto lontana come un telefono di rampione marco guarda lampione è in missione marco questo non la vedi ora marco non si dicono queste cose ma se ti volessi buttare una carta tipo così a chi ma lo tenere è già una bella bruciata con combattimenti o nei pericoli dove vuoi campiona niente niente più ampione dai da soli 6 se indivisibile marco messo dove sono al contrario tuo davanti a piacere marco che mi sa guarda nel secondo episodio di goda perché l'ho indicato no io lo guardo domani che brutte persone che siete mamma mia questi guardano le cose liccate io non so ma magari pure piratando l'hai capito io no no io sky beh io ho fatto l'account in comune con due pippo prima allora cosa fare prima di tutto fatti vedere ma facciamoci i cazzi nostri va eccolo ciò che tani che non è tani che cazzo sei rimettano e rilano marco guarda il mio evento guarda come muoio e non posso vedere non puoi vederlo il pericolo adriano celentano e invece invece non ce l'ho fatta perché si è spostato di dato ragazzi vado a fanno no amore non farlo ti sei spostato amore per favore non farlo non muovere dai scherzavo dai amore era una battuta in realtà chi è il campo del giro etate le cose chino è già ma perché temi morirà una pezza di merda amore non mi interessa però state le cose tranquillo da un simpatico una simpatica burla un goliard di cui scherzo il resto tra i due magia tutti eroi non ne hai meno che palle conto di maggiore avete tutti la magia quindi vi salvate marco e smida risponde mia domanda molto serio in questo momento a chi piace la magia a giovane e tu non vuoi che sa che geova sia triste vero e allora cosa facciamo con il giocattolo andiamo a buttare mamma mamma perché non mi hai fatto adottare da qualcun altro allora cominciamo la lunga attraversata marco non c'è neanche cosa che mi danno la vita che mi sono persa flagello no perché non ce l'ho a delle chifero sulla pallude marco è già mi vado di quello il passo sulla pallude marco cosa questa cosa qua marco entrare nelle mura sì esatto io già entrare nelle mura vai entra nelle mura vediamo un po ma che mi inchi l'ho mi scrivi andrei sulla casella vicino alle mura alla palude poi modico e dell'ecchino non faccio questo ciao marco ma siete vero gli hai succhiato tutto è già guarda che neanche marco neanche il coraggio di combattermi guardalo non ti attacco ranna tranquilla trattino potresti farlo fuori guardandolo non farlo perché non mi fa in cui può giocare abbastanza oro ma devo giocare su una creatura 26 a due cuore care non ti voglio fare del male ma come sta stringendo il culo mi veramente in mezzo alle balle che mette al belino esatto visto intendo non gioco vediamo il pericolo di lamp 5 dati non è un pericolo così brutto dai no affatti non bruciarti niente il collo della montagna e io e io nelle nostre alpi con questo villaggio e io e io e io faccio la mia missione rischiamola dai e invece sì sicuramente maremma niente con che percentuale 40 pericolo 50 svegliato e no io con 50 l'ho azzeccata che sono un saluto fuggire mora nix io ti ti amo anche anche altrettanto marco te l'italiano oggi non siete amici anche altri l'ho detto apposta e cretino buon upgrade di gesù ho citato testualmente il post di marco mio sì che sta per mancarla e non è detto che sono le temi che stanno c'è adesso non ci segue che vergogna non ho instagram amiglio ma tutto lì farà posto per noi instagram ma guarda no dai che mi attacca vieni canto mamma stavo per tirarla marco marco qualcos'altro ce l'hai non lo so ce l'hai la resurrezione pito perché volevo zoscia dio non ho mai provato i top è un buon ragazzo più forte ciao arti home short home va bene marco ha detto marco 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 fai una cosa per per la live per favore cosa allora ora tu vai da tua madre marco non sto scherzando di mettere che gli metti non mi metti le cuffie e io gli dirò che sei una persona vergognosa che si deve fare una bella la manzina marco non mi interessa mi dà il suo numero e vi mando un messaggio dato non lo farò ciao arti o ma non mi ero e cioccolato fondente con le nocciole intere vuoi mettere le uova kinder con le sorprese di mario kart io ho trovato gli occhi noi ciò che vedi di cosa le sorprese di te dire dance go le tinta i tansego cosa è trovato marco adesso ve lo faccio vedere un attimo lo mandi nel canale ci sarà webcam come c'è la web non dico adesso l'attivo marco dimmi mi hai fatto prendere solo no sbagliato sbagliato di nuovo sto sbagliato sbagliando sto sbagliando marco che che non stai facendo vedere niente sei buono esatto marco questo e non so minimamente chi sia perché non guarda di internet perché mi fa schifo tanto ciò che riguarda la dc messa ai borgo non lo so può essere chi ti pare è importante che io marco cosa ci farai me lo chiamerò in culo che ci dovrò fare passione marco fai vedere il turno di rompio un piove che lancia le asce contro i cattivi i cattivi dipende dal punto di vista non la mettere latini e fine il gioco di goblin adesso così i ripimpi di che uomo goloso la madre di marco direi tutto nella norma ma io non ci ho mai provato con la madre di marco ma è vero ma è vero però non ha potrefazione ma se sono anche a cercarla su facebook la marido marco guarda anche pensa che non sappiamo dove si nasconda sarà tanca ha detto che tanca non sarà guarda guarda una volta che mi ha chiamato il nome giusto dato is your turn non so sto vedendo le mie carte scusa ma non mi ha messo fretta adesso muori bastardo americani di lol ma infatti non mi piacciono quando ci riesce non ci prova farò non fare non c'è provare l'aprello l'ho presa nel culo quindi no no io sono morto anch'io non so quanta vita abbiate e io ho uno no io ho uno dividito noi due noi uno uno è rigoloso si ingolosito potrei essere io sono io non ho trattato un'ora e basso alcuno ma come ma cosa ma tutti a tre eravate leone cazzo una fazione o inoltre che per anni grazie come vabbè dai questo almeno marco gli diamo un po di difficoltà a vedere in visibilità fino all'alba successiva consigliere non si vede un cazzo va bene ringrazio volendo reddito utilizzare i miei accampamenti cioè grazie guarda sto guardando la mamma di tue raggio scelto con gli accampamenti meno due vita e le tibili legato ma dipende in che nella vita vera o faccio tipo quel no pre troppo buono non posso faccio schifosi sempre sentite questo rumore magari magari ho lo fallo per favore sentite questo rumore sono sono le ruote della macchinina di joshi qualcuno non le odiate io le odiate va bene uguale marco non ti permettere più di parlare così della mia macchina di joshi dato dove sei chiaro ma io non posso vedere nessuno quindi no marcos a tutti i miei giri vabbè continuate a cosa io vado a prendermi della cioccolata ciao marco inutino senza i due che diamo ma chiarita ma sei scema ma vada solo come vada solo run sì è perché si sembrano le scuse di marco quando gioca allora se guasce che all'inizio del turno la fa muovere in casa cosa intendi come scuse perché non lo tolgo ma niente marco marco baciamoci no marco non li ti chiamo più no vabbè allora il giapponese ci fai da solo no me lo offri il giapponese invece no marco oggettando 7 c'è porta il giapponese dovresti pagare tu tanto che fosse indietro che le vede che ero passate una volta i buoni marco ti portano i quartieri brutti mattina e pomeriggio no faremo la serale oddio aspetta mattina pomeriggio oddio non aspetta ma se fuori ma se fa formati a domani ma se fa la pomeriggiano domani si me l'ha detto oggi ok comunque bello essere in visibilità e allora mettiamo lei non vedo un cazzo c'è il turno di randata 20 minuti e adesso è già giocato qui stai io a dire stagione ma l'affanculo cosa dove la mia missione domani domani faccia sessione in vita in morte sarebbe stato un casino oh so dove è dato il primo altro ma ci piano ero non sei in un buono stato fammi vedere le tue ferite vediamo cosa posso fare cosa è il corpo il corpo al cuore recupera tutta la vita cazzo sì che culo il mio non è culo micro la mia classe ho finito la parte di loro mamma mia che bella quarta quale è dai modis unbreakable o stardust crusaders e dai non lì stupita ombra dai amore nix guardia uccidi l'ombra bravissima guardia bravissima guardia infame no no grazie guardia dovevo passare da lì e diamond ecco a me è piaciuta molto di più stardust crusaders anche se diamond is unbreakable è bella bella però stardust crusaders è sempre il mio cuoricino vediamo a marco giocare tramite la live e evocare un'ombra e invece no marco io non vedo nulla marco fai una breve telecronica sta provando a prendere lo scudiero forse non lo so no no non rischia ha troppa paura di perdere eh mi chiamano cercello il prudente il prudente e comunque il nuovo capo del prestigio è la spignorina run mi chiedo io non voglio mai più sentire una roba del ger ah è verito qui oh scusa run non lo sapevo vediamo il combattimento tra michiro e lampione che cazzo un attimo eh non posso vedere che sta facendo la missione un attimo muoviti ah bello ok no dark non dire non dire stardust è stardust ah bello questo attacco in aria dai ci siamo parati tutti ah 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 ho fatto un cazzo che attacco di merda che cazzo ma è stata una piccola scaramuccia un bisticcio un bisticcio ah almeno so che anche l'ho noto bisticcio io non volevo attaccarti run sei tu che ti sei messa di mezzo guarda così mi hai fatto fare vedete per successivi due schiaffetti perché devi andarmi ciao si posso anche a te ma lo scoperte anche se la scusa anche dalla fine a tutti ragazzi intanto qua ci sono io di pietra andiamo qua no capito ah perché è un cerchio proviamoci dai dado dado cosa ho sentito io ho sentito anche ritorno della live dado che cazzo ho sentito no dado prima prima ho sentito veramente la morte nelle tue corde vocali Marco avevo del catarro grazie Dark come sei duro mi chiedi sto odiando perché non stiamo andando niente non è capitata sta cosa e beh quanto dura non volevi morire scusami tanto io la vedo perché ha conquistato un altro accampamento aspetta ma siamo tutti invisibili quindi sì però io so dove sei me lo ricordo Michiro ti fai cazzi tuoi no Michiro io ti banno da facebook e non lo uso e io ne uso ma usi qualcosa per perseguirci su qualche social come se avessimo facebook ma su facebook non ci si sa telegram basta quello e adesso ci rivediamo finalmente alba del quarto giorno e tocca a run a rampione si brava buona guarda tutti ieri muoiono tutti ieri hanno perso angelo di placida usa angelo di platino di magic tu avversari non possono vincere la partita tu non puoi perdere la partita un oggetto no uno 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 a bene cosa cosa farmi di questo oggetto equipaggiabile ma rem volevate volevate i due oro ad ogni insediamento volevo cazzo a me serve a te che a me tutto ciò per farlo per farlo per farlo quanti oggetti a che pezzo di me guardi faccio una cosa ho rapinato Michiro di un uovo di una pietra scusa mi spirito dell'aspetto del tuo turno Michiro perché dopo mi ammazzavi no ne d'altra parte si si certo Zosha sta decidendo il suo prossimo bersaglio vai Zosha Marco Cercello adesso vedremo vediamo dove mi butterà il mio cazzo di cosa d'immera non si dicono queste parole terribili campione queste parole queste parole scellerate due tre altro vino altro acido caldo perché è buono queste fanno le scellerate come si fa a togliere un equipaggiato non puoi la prosecuzione la spadre di un piede a Dato ah ok ma no ma no ma no no ragazzi per chi non sa l'ora di questa storia l'ha spiegato a Dato l'altro giorno ho sognato Morinix solo che Morinix non aveva buone intenzioni infatti nel sogno mi sparava su un piede e non so perché ho sognato Morinix che mi sparava su un piede però perché sto vedendo Ila che gira e basta non credo di averti mai sentito che prima Morinix ha detto Ila quindi ma quanto si muove questo ma quanto si muove questo ma perché cammini così tanto perché sono un forso ah dannativo mi sembra un'ottima spiegazione da oggi in poi ti chiamerò Ila no non volevo un va bene non ti chiamo Ila ti chiamo l'aria condizionato no ha affreddato la mia giornata no dai può signore signore ciao 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 buona fino a basco anche molto allora la nuova serie di mascia e orso dammi te la propria peperazza no tu hai quattro perché ne hai quattro adesso perché ho usato una carta per due turni mi fa vero le due punti ciao 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 cazza venera non ti ho fatto niente da non mi chiamare ciccio gamer rabbia di run si è manifestata sotto forma di ombre run mischi contro gli uccelli come era la lady che faceva quando dormiva usciva al suo il suo spirito arrabbiato non con elettorico marco mi stai guardando mi chiro sei al terzo anno combattendo mani e quindi si fa il secondo mi chiro c'è l'intero dal terzo ma voi siete tutti strani a roma marco so hai visto che ho vinto il combattimento è sicuramente molto onorevole marco uno dv da dove ti sto accanto marco svergino delle botte per favore si marco marco io non ti attacco non ti ho attaccato prima perché avevi paura dato no marco perché avevo messo una mazza ferrata dato devi aver paura marco non fare il naziare dai ha fatto un passo vicino a te marco marco ti mando questo marco 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 ti mando questo mi chiamato nelle mie orecchie che cazzo di paura poi dite a me alice mi ha mandato un marco non dico neanche cosa ho detto vai minchiro un delfino morto mi chiro era una casella della missione mi chiro mi chiro mi chiro io spero che i tuoi genitori quanti guardano o scuotano la testa cazzo grazie a me mi aveva una spalluccia guarderanno come balla ciò buone e auguriamo il pericolo di lampione a auguri run come cazzo funzionano queste cose cazzo per forza e brucia la vera brucia la città vediamo se perde due esploda marco niente ho sbagliato riva sociale marco per cello nudo sul mio lettino che cazzo ci fai qui marco levati dalle palle chiamo i carabinieri come tt vestiti marco mercolato una piccola loro in testo quante pietre dello spirito vai ok ora si chiamano ok non è un numero tanto vuoi saperlo a mia natura a quanti a due e anche dato ne ha due quindi vai dato il filino orso ti piacerebbe uccidere l'orso però non è perché stai facendo cose cose impie con la tua vulva non far finta di essere forbito per favore no mi stavo sistemando ero messa male la vulva era messa male marco cosa cazzo marco si azzecca avevo detto che attaccava l'orso maserenko ha sono bastardo però no scusa lamp vediamo chi ha più dadi ha armatura di palle e la signora oddio sui bambini invece che sfregi in canto ho letto sfregno in canto no non mi brucia niente vaffanculo vai 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 vediamo la ragione agita i bracci contro agita i bracci la run vive la rana muore dato si prende in centi marco 2 ha preso un colpo mi dispiace da dove ti è preso un colpo ma meno un colpo pollo però allora facciamo così dai ero vicino oh no ha avuto un colpo di tosse fatto quanto mi chiedo ma che cazzo vuol dire grazie tutti contro mi se vado a picchiarlo ma dai chiamano cosa faccio lo stronzo o il più stronzo in una bottiglia tantesto mia miglia appena ti vedo faccio un salto molto in alto e ti dò un cazzo che no piccoli full messo porca puttana mar che c'entro io la scusa di merda guarda la corrotto ciao mateo come salve quanto tempo ma dai mi sono auto ucciso davanti un micro micro il nuovo tour fake mi chiedo questa che è brutta tanto l'offesa che affronto e che cazzo ma quanta stiga possa avere dell'artium guarda il mio problema è che porca puttana la rana povera rana povera rana povera rana povera rana ragazzi ditemi cosa fare avanti voglio che non dica la cia no no chat chat ditemi cosa fare marco te lo scrivo in chat no il primo il primo a scrivere qualcosa che non è uno di quelle persone che stanno in live faccio quello che dice ma io sto in live eh che non è il secondo fa l'uomo ah bene devi fare l'uomo almeno una volta ogni tanto fai l'uomo marco parola pesante come pranzo pasquale ma perché non mi da tutti i punti vita ragazzi in che senso me ne da 6 su 7 perché non lo so perché è arrivata la maledizione del cicetto no no non lo so allora oggetto che balle oggetto cece io sono putrefatta e va bene sto facendo avanti e indietro lo sto facendo passiamo da qui ah abbiamo il pericolo vediamo il pericolo se ricordiamo le ho vetti dentro simboli putrefazio minchia ei cazzo CIA pre protagonista questo vidro amore un aha hah uova oh porca misarietta subito subito cosa è la carta guarda la vedi questa padua della vedi non mi faccio danno ragazzi prestiamolo per favore e adesso torno vado vado solo picchio vai si provare marco vengo anch'io mamma mia da allora marco lo veniamo fortissimo mio che cazzo lo faccio diventare come luca cioè meglio essere luca che marco probabilmente no no ho capito che faccio una vita brutta senza prospettiva per il futuro insediamento pacifico a un insediamento e un insediamento in generale in generale dietro la prontaria però ci devo stare dentro se quella del mercante sì c'è di aspettare lo so detto lasciate se no te lo possono fregare anche gli altri o un amico inviato oggi di 49 secondi che voglio sentire però non sentirò noemi noemi scusami poi ci saranno 49 secondi di mister miei proprio per pasqua marco non l'ascolti oggi guarda ora non mi ritira quasi più di me dite ma io cerchio ma meglio disgraziato che fu meglio rischiettivo dagli torti meglio scellerato scellerato da nessuna parte se qui c'è la guardia qui c'è la montagna non ci posso arrivare qui c'è la parola è solo falluto è dato ma guarda non mi chiamo mica luca s o spadoni l o no c'ha un mal di testa perché sono in foresta c'ho un mal di testa perché sono in foresta ma vai a fare il culo per le palle però stucelli del cazzo migliore migliore di una cerchietta che c'entra da fuori l'ha già letto prima o l'odio non saprei sai che vogliamo bene marco lo sai a volte non sempre io non mi devo sono fortissimo guarda la guarda la si è anche un più uno prestigio visto che culo che non si è arrivato al buco duco gialluco che rive dello stronzo di marchio so dove marco pestano marco non si provare allora marco pestano marcos e mi vestiti dove sono io acqua dio mi perdo sempre sento marco poi cliccare la tua immagine ciao simon da si è aumentato la vita che pezzo di merda simon ti ho visto solo guardando se forse sono grazie e indicato nelle cose che è un pezzo di caracca 6 però è avuto si sono simboli potre fazioni marco cercello che ridere fai ma perché avete tutte ste robe voi spiegate fatti rampiore ci dobbiamo ottenuto e no mi sa che ha vinto migliora ragazzo non c'è chi dovrebbe capitare le peggio cose della vita cioè in quei giorni da fuori di annuscare il culo alla gente della fase da tu che culo marco neanche non c'è sanofi sarà manco marco ma cammino guarda dove c'è devo morire ci voglio pure io mi dirò no rimani a uno te e poi muori per la valuta perché se quasi ma due marco ricorda di non combattere mai con te per fatto capito perché volevo zoscia ma no deve rubarmi da marco mannaggia lui e non la sa neanche usare come mi sembra ti abbia fatto atto di danno quindi la sta sapendo usare a solo culo va bene sentite l'ambulanza si sono i fulmini marco prenditeli i fulmini teri cazzo se guccio di merda se mi mandi nel brucia le due carte marco mi posso bruciare solamente uno muore marco per entrambi che buco di culo marco boom e la carta che ho vinto cosa cattivo vinto nel nostro niente già tanto se sei vivo o una volta ogni tanto per favore una volta niente fa il poverino ci sta prendo il culo in due a tutti sta pure scaracchiando per le sue lezioni di marco cerce ronzo che sono un po uno stronzo grazie a filo dai e non c'è troia meno male che varie lamp team dado simo io ti lecco le narici ma la riserva esplosione che cosa scusate è quella che c'è la basso quando sei nel combattimento scusano anche ora ogni tanto qualcuno potrebbe volermi come il mezzo quello in mezzo del buco dell'ozono povera povera greta ragazzi vedo sempre team dado team run team qualcuno non vedo mai team cerchi no a quello di natura che faccia può cambiare tu devi avere l'altro deve avere sfiga run hai sbagliato cazzo lamp cosa hai fatto si è fatta nemica ma fa fallica volevo dire follo detto fallo però mi fa pescare le carte perché non mi fa pescare la carta le carte amici perché colpa di erano non è dato e dato che il marco io non ti attacco tra mi attaccare non ci ha attaccato neanche ma con casa da lui che mi ha attaccato scusa perché vuol dire che rili ho dato dato addio marco non tirare un po marco tiramare le piccole dato dato hai la possibilità di ucciderlo poca vita che fai almeno 3 3 dai 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 va in difesa va in difesa in attacco vaffanculo petto però c'è uno di vita ancora non ha due attacca lo uccidilo dato per favore adesso però c'è indietro se lo prende non tiene la vita perché è perché sarebbe un attimo rotta come cosa era nascosta e mettoni indietro è giusto che gli diam più da tutti ma non durante il combattimento io non posso andare da nessun'altra parte se non attacca non possono anche attaccare il turno e devo fare ancora di una carta per ucciderlo proprio alla twitter ma non vogliono neanche marco a mio amico ma ti prenderesti uno di prestigio ecco grazie marco strumenta che se il nuovo morto sono davanti attaccato neanche prima i tre pietre dello spirito mannaggia e del tempo no allora posso uscire tra marcia di guerra re dichiara tutti erano nemici del reale e mettono a testa sulla testa signora di loro scala reale re decreta che la situazione abbastanza interessa agire lo scattano le carte del loro umano non ho dato una domanda ma non c'è la della romana ok si siano esigenerano quindi viaggiamento mi resta sei veramente ho perso una carta che va già messo da perché trova un turno sono un po troppo l'anno sì sì no quello di prima ordine no no marco può testimoniare che non sono un po troppo lo vero marco pesato mi attacchi sei morto troppo ma che cazzo di schifo ho trovato marco ti leggo e binari quante carte vuoi tenere marco a 5 mortacci tu hai trovato dei gatto che si tiene sì che si tutta terminata quali sono i sotterranei ragazzi e poi evoca le ombre non riesco a me vesti qua sì sì no perché gli ha diventato un pericolo 1 perché gliele è messo davvero o no 1 ho sbagliato sbaglio marco brevi ma bene basta ma quando oggi se è fatto come quando si è portato la stessa mina su smash e mo vabbè frega ragazzo non scrivono tutti oggetti l'equipaggiamento marco se muori raga ma che cazzo di sfiga ma cosa mi rappresentano c'è neanche le cose da tirare l'ex a tutto marco e fatto tutto da solo cazzo non ho capito come funzionava a dio o cercello a dio addio a me la solamente tolte da che posso anche mettere ma solamente da terra ma vabbè devi spendere soldi però devi spendere solo soldi ne ha altri 5 e non ha più soldi a marco usa quelli che nella vita vera perché sei ricco magari vai mi chiro arrivo ripescare come se facciamo i soldi in questo gioco allora aspetta un secolo che stanno sentiamo quello e no questo che lo consiglio io mi ricordo dammi questo zosha mi chiro primi sono io davvero che tomate solo ti vede tipo miti in faccia marco ti ricordo che non possono comprare un gelato mentre te riesce ad andare a trovare dado che coincidenza simone a chi riesco a comprare un gelato però e c'è a far finire a trovare da me capito si guarda forse era mai un gelato allora fai u per il gelato uno spirito più una riserva oggi ragazzi stai fermo dove vai mi odio infatti pagherà marco ce la faremo ce la faremo stavolta questa volta per me la risposta è no ma se scemo ma se scema che successo che cazzo marco non sono stato io ma no no ma se scemo c'è finalmente ce l'ho fatta l'ho fatta a tre pietre dello spirito piano ma sei pazza ram e non andare la ram non andare ampiona ma sei pazza davvero mannaggia ma perché marco perché marco perché avete lo stesso nome sia te che darmo no più semplice c'è scritto sulla mano quello fatti marco che sei ricco e ci sono del frattore ragazzi ma magari fossi davvero ricco non avevo pure offerto già il mondo a tutti e adesso dato mi attacchierà malamente perché è stronzo mi chiedo perché tu di fidi di me perché riconosco circa io sempre non minimamente video che cazzo significhi sta cosa cosa fammela leggere e ovviamente ovviamente dall'altra parte recuperi di uno di vita per ogni flagello presente presente ok tani siete tutti sono trascosta 6 di magia che non avrei mai perché se ne ricaricano quattro ogni alba fatino 0 si equipaggiata armatura pesante guarda lui guarda lo mi chiro dimmi bravissimo dato i lupi di loro i lupi devono uccidere i topi e ancora passi metà chi però fa un mazzo no non ti attaccano che non trovo e va bene tanto a terra ma ne manca uno quindi state per vincere non andare la giura non andare la giura non andare la giura ci si è una tla pio pendor per recuperare in che senso deve coprire anni di bevuto mi sono perso qualcosa perché era stena era colpa nostra colpa nostra ragazzi abbiamo corrotto abbiamo corrotto ricche d'arco marco e dimmi marco hai un seguace del cacchio lo sai vero marco hai un caccia di seguo rivela le missioni tutti anche te lo dico non è capitato hai fortuna sei bravo dai e d'arco batti cinque cazzo cosa però io lo posso anche vedere se non guardo in live perché lo posso vedere dalle scritte tra l'altro mi sono appena finito una birra mettiamo qua dietro che falle che siete tutti invisibili minchilo dove sei allora la sempre ma io sono neanche qui poi passo qui grazie dell'arma si qui c'è un mercante non l'hai messo tu io mi sono scordato grazie mi hai dato un elmo è chiesto non so quale cazzo la mia perché vedo tante l'emissione ancora prenderla cino missione o l'ottanta per cento di riuscire dai dai che però quello sbagliato dai ma la randola sopra l'unica non invisibile per il berin o le dove sei questa carta marco questa carta la carta alla battaglia finale missioni adesso nel palazzo perfetto di ammire grazie marco guardiamo il pericolo di non la l'ho mai mandato brutto basti bastione a lo basti meno tre vite e dispiace faremo fatto io perdere ma no l'ha evitato a culo scudai lo farà la l'uso del palazzo è uno scudo dato e vissero anche facile lo scudo marco non lo so brutto bastardo di un gatto che poi figli di cani mamma mia figlia di tutti i cani ma lasciate in pace gli animali insultiamo marco no i vecchi me avevano poi un giorno a prendere che mi incazzo comincia a urlare fortissime live e basta non lo fai già con 6 kg scherzando un sole con sette date non manca mi è uscito ma che cazzo ma non c'è manco il pisello su marco deve entrare nel palazzo un che bello io no che strano è perché non hai fatto ancora abbastanza missioni per arriva a quella finale in teoria capo del prestigio è perché avete chiedato dato perché sono fortissimo e grazie grazie gloria gira bkm gloria ciao giri gaffa benvenuzio benvenuzio benvenuzia del re o palazzo blindato il re ordine al calberto che le mette del re ma dal scuole eroi primo prestigio con il cazzo prestigio chiamasse tutte le guardie del re in attivo con il cazzo doppio e non è il culo non ho capito vedete dai dai un conto di tardi con la vaselina senza no no senza solo con lo scaracchio con lo scaracchio termini scellerati allora c'è ma cazzo f e marco lo sai grazie ha complicato la vita vero a noi ci ha complicato la vita perché era proprio quella che volevano tutto in panno il palazzo stracchio termine tecnico assolutamente sì 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 comunque grazie a te o me d'arco sì grazie 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 non c'è soldi per prima cosa è veramente in mezzo al cazzo gli altri economiche mi escono i soldi si ti sposa ti sposi per cortesia magari prestigio come magari veramente marco ma no dai vorrei fare qualcosa di mare marco vai un matrimonio casto marco come fai a essere ancora più nelle palle di prima marco marco finisci il turno no no te non posso niente finisci il turno caputana dove vai dai sopra no sotto no sei tu tocca a me perché ti ha girato il dato a caso scusami perfetto allora allora se provano la cagata dai vogliamo risposta di averla per vita senza fare peccato mi chiede sapere che io perdo sempre qualsiasi cosa quindi portamento giù perso anche le diciamo airore cioè il richiamo dei monti e questo è mario ma sei folle e non abbiamo il combattimento di minchiro questo è un folle pazzo scellerato farò del generato che guarda quantità di fa però vabbè io dovrei avere la partnership coi dadi capito capito perché mi chiamano no dato non faccio quanti attacchi guardia del cavolo ok mi leva solo due sei morta guarda la pensa che faccia fiera mentre si parava si aspetta non è finita devo affrontare il pericolo adesso quindi mi sembra ovvio sia altro aero dai 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 ma come senza volto l'avete visto ai rubi ti mando una cd aero nel canale non c'è bravo mica invece non devo fare nessuno sono felice allora però devo prendere si mandano una cd aero e che faccio mi sparo nelle gengive nel mentre perfetto facciamo facciamo perché sono cattivo non c'è un pericolo in giro si aero va bene non posso ciao alla fine turno ma io lo sono tutti con me davvero hai una bella signorina per se non risponde cinque secondi la mando 1 2 3 3 4 4 e mezzo no dato sto andando in questura mangiato scusami aero ti hanno denunciato l'ho mandato dai giochiamoci se volete vedere aero andate sul nostro canale teletron scendiamo subito ma che buco di oran ma sto scherzando ma stiamo scherzando ma vaffanculo me ne frega un proprio proprio niente ma stiamo scherzando aero ma vieni lo sai ram è che adesso devi entrare nel palazzo per dargliele ci entrerò mani a ripartire la riga andrà male con il 40 per cento si no ti entra bene tanto mi chiedo può salti il sito da dire ho fatto del 40 per cento no magari avrò tempo di entrare ma chi se ne fotte devo sapere perché di aeree andate sul sito io porno che cazzo detto e come fai marco che sei vergognoso no ma devo proprio sul mio ma morto ci dove ne è pieno io ho solamente uno non era il mio amici mi raccomando canale teletron per vedere la faccia di aero infatti adesso ne due dovrò andare difendere tanto devo passare lì ma vaffanculo quanto cazzo mi arricchia al prossimo turno spero che mi rai nelle nostre alpi ma vince marco no no e come facevo a combattere la guardia e ma ha vinto ha vinto me se mi va bene con i dati vinco io ma ha un prestigio in più marco sì ma mi che lo sta andando a uccidere il re ah beh sì ma mamma re che cavolo di equipaggiamenti hai i colpi mancati dal tuo avversario diventano dati extra per lui scusami e niente ti attacco ora è del cacchio oh devi morire no se la vince amici lui è bannato per sempre da ma no dai da facebook ok sticato la porna ma da quanti dati e vabbè sì ogni dato che manca è un dato in più per lui eh sappiate questo quindi io brucio tutto il possibile bruciare bruciabile eh vabbè dai per favore per favore devi morire hai vinto un dato in più per due dati in più per lui hai vinto no non ho vinto però ho vinto hai vinto hai vinto quanto sì ha vinto vado il cacchio sei morto che vergogna che vergogna ragazzioni che non lo chiamo più a giocare con noi intorno a qui ospite e vince pure ma che cazzo vince pure ma questo neanche ci lascia vincere io non ho capito invitato ma qualcuno a parte che ti sei auto invitato non torno mai più diciamo le cose come stanno diciamo che mi ha fatto oh ma se non c'è nessuno con cui giocare dai comunque comunque uccise il resto sono pacifista spiegatemi come eh 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 te lo vorrei dire come siamo in live bannichelero ecco bravo ma io non ti ho pacifista e ti ho fanni che vedi guarda che ti almeno con un giocatrice che vi lascio vincere mi lascia vincere arriva secondo per rispetto io vedo pacifista operaio qualificato non so di cosa famiglia che avevi messo il caschetto ho letto zoscia lo zerbino e mi sa scritto zoscia lo zerbino e due livelli di team quasi tre bene ragazzi io amici vi lascio ricordati come sempre tutte quante vai dopo continuo amici vi ricordo che potete andare sul nostro canale per sapere cosa faremo in live per vedere la faccia di Airo mi ricordo che potete andare sul nostro canale youtube per vedere youtube però si scrive così per vedere tutte le nostre past e il best of mensile che io dovrò iniziare a fare tipo la vostra settimana qui intanto c'è vedo cose brutte mi ricordo il nostro canale instagram per sapere cosa faremo tutti i giorni per vedere le storie dei vostri corgi preferiti che lasciate stare real facciamo vita siamo questi sì vi ricordo il nostro referro per comprare non so scrivere perché la tastiera è rotta è il nostro referro si si anche a poco prezzo e supportarci vi ricordo potete salvare mi potete donare capito mi potete salvare mi ricordo il comando pane vi ricordo che il 26 ci saranno 12 ore 12 ore più se ci si riesce ma marco io ti denuncio se la fai di più e che altro faciolini ciao no vi ricordo anche la parola del giorno che è dato parola del giorno che ha scelerato scelerato grazie mille ragazzi ci vediamo domani ancora buona pasqua micro per favore stai zitto che stiamo stiamo lavorando stiamo lavorando qui dopo vi pago a nero dai dai che con due giorni forse depositi segno di file guarda di finanza stava scherzando ci fa la fattura è niente guardia di finanza buona buona pasquetta per buona pasqua per quest'ultimo ora e per la prossima ora sarà buona pasquetta ciao 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 ciao